Ripresa degli allenamenti con il morale alto dopo la bella prova e soprattutto dopo la vittoria a Casalinga contro la Stella Azzurra Roma? Sì, ci serviva dopo lo scivolone contro Viterbo. Abbiamo detto che bisognava vincere questa partita e anche farlo in modo molto decisivo e quindi siamo imposti su tutta la lunghezza della partita, quindi siamo contenti della prestazione. Contro Forlì fuori casa è una gara tra due squadre che hanno gli stessi punti in classifica, Teramo però deve recuperare una gara. Sì, è vero, però come abbiamo visto questo campionato è molto equilibrato, quindi i punti in classifica lasciano il tempo che trovano. La squadra sicuramente non è male, poi giocano in casa, non vorranno perdere naturalmente davanti al loro pubblico, noi però stiamo riprendendo la giusta via e secondo me ce la giocheremo senza problemi. Viterbo va riscattato fuori casa, dice il coach. Sì, probabilmente sì, perché in casa le partite sono sempre un po' diverse, vincere fuori è difficile e aver buttato via due punti che fondamentalmente sono buttati via in quel modo ci ha fatto un po' male. Dobbiamo recuperarli fuori e speriamo di farlo subito sabato. Forlì è una squadra che probabilmente ha meno punti di quelli che meriterebbe. Sì, negli ultimi tempi ha vinto più partite di quelle che ha perso all'inizio del campionato, è una buona squadra, sono nomi molto importanti, quindi ripeto, i punti in classifica ancora dicono poco, si vedrà a lungo andare, però è una buona squadra e non è sicuramente a sottovalutare. In chiusura una parentesi personale per la gioia, Umbro di Foligno in particolare. Come stai vivendo questo momento di grande difficoltà del popolo Umbro legato al terremoto? Purtroppo siamo abituati, perché con il terremoto del 97, quelli precedenti di Norcia, siamo gente un po' soggetta a queste catastrofi. Personalmente è andato tutto bene, ma un pensiero va sicuramente ai miei corregionali, specialmente ragazzi, giovani di Norcia, persone che conosco personalmente, e dei luoghi a cui sono affezionato che vederli così fa un po' male. Però si va avanti, siamo gente abbastanza concreta e non ci peggiamo molto addosso, anche se è la cosa che viene più facile da fare, ma noi ci tireremo su.